Musica Buongiorno a tutti voi e benvenuti a questo nuovo, ma anzi ultimo appuntamento dell'anno di BREAK il programma di Cusano Italia TV che vi racconta la politica, ripercorre le tappe più importanti solitamente lo facciamo della settimana politica in occasione della puntata di oggi 30 dicembre chiudiamo invece l'anno, quindi ripercorreremo tutte le tappe importanti di questo 2022 a livello politico per lo più a livello interno, però non potrà mancare uno sguardo a livello internazionale perché quest'anno, questo 2022, lo sapete, è stato segnato in particolare da un evento dall'inizio, il perdurare della guerra in Ucraina Vado subito a presentare i miei ospiti Buongiorno a Valentina Menassi della Voce del Popolo Ciao Valentina Buongiorno Aurora e grazie per questo invito Come sempre grazie a te, buongiorno a Marco Leardi del giornale Bentrovato Marco Buongiorno a voi, bentrovati Elegantissimi i miei ospiti oggi, concludiamo insieme l'anno Allora sono sette in particolare le tappe che hanno segnato l'anno che si appresta a concludersi All'inizio del 2021, ricorderete, verso la fine di gennaio sono iniziate le Quirinari Ovvero le elezioni del Presidente della Repubblica Che poi la scelta è ricaduta, come lo sappiamo Sebbene il diretto interessato aveva ampiamente allontanato l'ipotesi di un secondo mandato I grandi elettori hanno scelto di nuovo come capo dello Stato Stato Sergio Mattarella Vediamo il video Mattarella Mattarella I Presidenti della Camera e del Senato per la loro comunicazione Desidero ringraziare i parlamentari e i delegati delle Regioni per la fiducia espressa nei miei confronti. I giorni difficili trascorsi per la elezione alla Presidenza della Repubblica, nel corso della grave emergenza che stiamo tuttora attraversando sul versante sanitario, su quello economico, su quello sociale, richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento. Queste condizioni impongono di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati e naturalmente devono prevalere su altre considerazioni e su prospettive personali differenti, con l'impegno di interpretare le attese e le speranze dei nostri concittadini. Ecco, Mattarella l'ha detto chiaramente, aveva altri impegni, altri desiderata per il suo futuro, invece è dovuto restare al Quirinale perché così hanno voluto i grandi elettori. Valentina, che cosa ti viene da raccontarci in merito a quei giorni? Qual è stato l'aspetto che a te ha colpito di più? Innanzitutto le parole di Mattarella. Io ho segnato appunto questa frase, se serve, se è proprio necessario, io ci sono. Lui ha dato la disponibilità dopo tantissime richieste e dopo tantissime proposte di altri nomi dai vari partiti, penso per esempio la Casellati oppure c'erano anche nomi del calibro di Cottarelli come possibili candidati. Ma alla fine la scelta è ricaduta ancora su Sergio Mattarella, che comunque ha svolto il suo ruolo da Presidente della Repubblica molto bene, con molto rispetto e rispettando comunque le richieste, cercando anche in questo momento difficile di far andare d'accordo il Governo e anche i vari governi che hanno preceduto l'attuale, però onestamente credo che abbia svolto correttamente il proprio incarico. È stato eletto dopo 8 votazioni, quindi 8 importantissime e seguitissime da tutti i giornalisti del mondo, con 759 voti. Quindi diciamo che si è guadagnato sicuramente questa carica, mi spiace tantissimo perché si vedeva che comunque era abbastanza sofferente per il fatto appunto di dover essere rieletto e proseguire per il mandato. Sicuramente un governo come il giallo-verde gli ha fatto passare un po' la voglia, lasciatemi dire questa espressione. Ah sì, perché poi quando arriveremo alla crisi di governo probabilmente la riemergerà anche io, la durante il mese di luglio ho avuto l'impressione, il pensiero che Mattarella si stesse dicendo ma chi me l'ha fatta fare ad accettare questo secondo mandato. Marco, tu invece su quali aspetti vorresti puntare l'attenzione di quei giorni? Valentina ci ricordava i nomi che sono stati tirati in ballo, la Casellati, che in realtà probabilmente è stata anche bruciata proprio perché così portata in alto, ma in particolare voglio chiederti quella vicenda, quelle ore concitate intorno al nome, un altro nome, quello di Elisabetta Belloni. Sì appunto c'era stata anche questa corsa, questa fuga in avanti sul nome di Elisabetta Belloni che in effetti poteva essere un nome di alto profilo, però ricorderemo tutti come si era arrivati a questo nome, ne erano stati bruciati altri e il centrodestra era stato accusato in quei giorni proprio di aver fatto eccessive fughe in avanti e aver bruciato dei nomi. Però la storia va raccontata nel suo insieme, va ricordato ad esempio che i PD e il centrosinistra per la verità non avevano un vero e proprio candidato di bandiera, se così si può dire, o comunque non avevano un nome sul quale puntare in modo deciso. No infatti, era il Movimento 5 Stelle che però aveva già riproposto Mattarella e il PD non aveva una strategia, non aveva una linea, almeno non è emersa a noi. Esatto e quindi il centrodestra ha anche magari, certo con alcuni errori strategici, però fu lasciato di fatto con il cerino in mano. E poi a conti fatti tutti i partiti dovessero andare a bussare di nuovo alla porta di Mattarella. Insomma, fu uno spettacolino abbastanza indecoroso del quale alcuni partiti dell'attuale opposizione sicuramente sono stati in parte piuttosto responsabili. Su questo, sullo spettacolo andato in scena, credo che siamo tutti d'accordo. Mattarella comunque poi nel suo discorso di insediamento al termine ha avuto, durante il suo discorso ai grandi elettori, al Parlamento in seduta comune, 55 applausi, oltre tre minuti di ovazione finale, però appunto non ha fatto, non hanno questi eventi, non hanno oscurato quello che abbiamo visto nei giorni precedenti. Rapidamente per poi passare alla prossima notizia. Secondo voi, prima Valentina e poi Marco, chi è stato il kingmaker delle elezioni del Presidente della Repubblica? Ma è una domanda abbastanza complessa. Escluderei sicuramente il centrosinistra con il Partito Democratico. Onestamente credo che dietro questa strategia alla fine di tutto ci sia ancora Mario Draghi, che avendo comunque rifiutato parzialmente, perché sentivamo le dichiarazioni di Mario Draghi in merito appunto alla sua possibile candidatura come Presidente della Repubblica, che ha rifiutato e detto più volte che non avrebbe avuto piacere comunque a svolgere questo incarico, potrebbe esserci stato lui in questa situazione di estrema difficoltà. Però questo è comunque un gossip che è uno scoop che non possiamo confermare. Secondo te Marco, soprattutto perché se la battevano in quei giorni, questo scettro lo volevano in particolare Salvini e Renzi, qualcuno pensava pure che alla fine sarebbe stato Berlusconi a dare le carte? Sì, effettivamente Salvini e Renzi hanno avuto insomma questo testa a testa, poi come sempre Renzi si è rivelato uno stratega, Salvini forse aveva fatto qualche fuga in avanti eccessiva, però anche il ruolo di Berlusconi non è stato del tutto secondario. Ricorderete infatti che il centrodestra in un primo momento aveva avanzato, aveva proposto proprio Berlusconi come candidato Presidente. Il Cavaliere rendendosi conto probabilmente di non avere tutti i numeri e di non voler protrarre per il bene delle operazioni di voto, per non protrarre oltremodo le operazioni, aveva fatto un passo indietro e anche quello in un certo senso fu un passo strategico. però forse il vero kingmaker involontario è stato lo stesso Mattarella che giustamente è rimasto in silenzio per tutto il tempo e poi però si è ritrovato a essere ancora una volta l'unica figura davvero... Perché se non avesse accettato Mattarella probabilmente staremmo ancora votando? Sì, probabilmente saremmo dati davanti a oltranza. Era poi spuntato anche il nome di Casini ma poi anche Casini non aveva ottenuto i numeri e quindi insomma come abbiamo detto prima è stato un percorso abbastanza accidentato con un esito forse non del tutto scontato ma altamente probabile. Arriviamo al 24 febbraio, una data che ormai resterà impressa non solo nelle nostre memorie ma probabilmente sui libri di storia. Video. del senso. E con questo discorso alla nazione Vladimir Putin ha annunciato l'inizio di quella che da mesi, già da allora appunto da sempre, è stata definita l'operazione speciale militare in Ucraina. E poi abbiamo visto la pronta risposta, replica di Zelensky, del presidente ucraino, che tra l'altro chiedo ai miei ospiti, quell'occasione che abbiamo visto è l'ultima in cui lo vedremo tenuto in giacca e cravatta. Poi da allora Zelensky indosserà sempre, ancora oggi, anche se oggi ultimamente ha cambiato un po' il suo vestiario, comunque la mimetica, la divisa militare. Anche questo, Valentina, secondo te, che cosa significa il livello di comunicazione del presidente Zelensky? Non entreremo troppo nel merito del conflitto, altrimenti non basterebbe questa puntata per ripercorrere tutte le tappe. Però cerchiamo di analizzare anche questi aspetti che possono sembrare secondari, ma in realtà, secondo me, nascondono qualche aspetto rilevante. Non sono assolutamente aspetti secondari da non considerare. Abbiamo visto Vladimir Zelensky evolversi. Prima era quasi un presidente sconosciuto, oserei dire. Successivamente, quando ha preso una posizione in questa guerra che sembrava dover essere una guerra lampo e invece si è protratta nel tempo fino ad oggi, abbiamo visto un modo di porsi diverso. Il video di lui che girava per le città dell'Ucraina e si nascondeva dai possibili attacchi. Raccontava la storia, racconta tuttora la storia ed è rimasto in patria per combattere a fianco dei propri cittadini. Detto questo, come vediamo qui nel video, è molto preoccupato per la situazione. Vladimir Putin ha scelto di proseguire, ha scelto comunque di inimicarsi l'America, gli Stati Uniti e l'Europa in questo frangente. Ma notizia di poche ore fa, se mi lasci fare un brevissimo, Vladimir Putin sembrerebbe aver contattato Xi Jinping per una vera e propria alleanza, sia in termini economici che anche, probabilmente, militari. Loro parlano appunto di rafforzare la cooperazione militare, appunto Russia e russo-cinese. Questo è sicuramente un grosso punto di domanda e vedremo gli sviluppi anche in questa trasmissione, immagino in futuro. Assolutamente, quest'anno 2022 probabilmente vedremo appunto se segnerà una svolta alla fine dell'anno, in questo caso sembrerebbe più in negativo ai noi, del conflitto russo-ucraino. Marco, venendo invece a quello che diciamo è stato l'impatto sull'Occidente, ma in particolare sulla nostra politica dell'inizio di questa guerra, cosa mi dici? L'impatto sulla nostra politica è stato quello di far svelare a molti le carte, cioè è stato una sorta di test sull'atlantismo e sull'occidentalismo di molte forze politiche. In molti hanno risposto nella maniera corretta e forse nell'unica maniera possibile, cioè quella di sostenere, di esprimersi a sostegno dell'Ucraina. Del resto sappiamo tutti che l'Ucraina è una testa di ponte, nel senso che probabilmente Putin ha invaso l'Ucraina, però pensando a un generale rimodellamento, ma del resto lo ha detto lui stesso, degli equilibri politici nella parte occidentale del pianeta. Per tornare a casa nostra, dicevo, molte forze politiche si sono espresse in modo corretto, cioè al sostegno dell'Ucraina. Altre invece, mi riferisco ai 5 Stelle, si sono esercitate così in un balletto un po' contraddittorio, ovvero in un primo momento hanno sostenuto l'invio di armi, ora invece si dicono contrari all'invio di armi e a favore della pace. Ci chiediamo però tutti, certo tutti siamo a favore della pace, ci chiediamo però come si possa raggiungere in questo momento la pace privando l'Ucraina di sostegno militare. Sappiamo tutti che la Russia è comunque una potenza militare e quindi questo aspetto non è da sottovalutare. Certo, i negoziati sono importanti, però le armi sono anche un elemento che può portare a una svolta in positivo nei negoziati, lo sappiamo tutti. Eh sì, e come hai sottolineato bene tu Marco, la guerra in Ucraina, l'invio di armi da parte dell'Italia al paese invaso e aggredito, è stato uno dei motivi che hanno portato non solo alla crisi di governo, dove arriviamo tra un attimo, ma un altro aspetto che a me preme sottolineare in questo racconto dell'anno del 2022, un aspetto politico, ovvero che poi magari non ha avuto queste ripercussioni che magari ci aspettavamo e ci attendevamo tutti quanti, però è importante ed è la scissione del Movimento 5 Stelle. Io credo che sia finita l'epoca dell'ipocrisia. Chi sta provando a proporre soluzioni semplici a problemi complessi si sta totalmente distaccando dalla vita reale. Chi sta provando a semplificare la realtà in cui siamo sta perdendo la fiducia dei cittadini. Ma io sono fiducioso perché anche in questo momento storico il senso di responsabilità del popolo italiano è ben più alto di quello di alcuni rappresentanti politici. E quella di oggi è una scelta sofferta che mai avrei immaginato di dover fare. Luigi Di Maio, in quel momento Ministro degli Esteri dall'Hotel Bernini di Roma, ha annunciato, come abbiamo sentito, quello che neanche lui avrebbe mai pensato di fare, ovvero l'addio al suo movimento politico che aveva seguito fin dagli albori. Valentina, innanzitutto, tornando adesso veramente tanto indietro nel tempo, avresti mai immaginato che un esponente, il movimento di spicco, quale era Luigi Di Maio, sarebbe poi mai arrivato a un punto del genere? Senza considerare poi l'eclissi che, ahimè, ha vissuto, come sappiamo, dopo le elezioni che non gli sono state favorevoli affatto. Beh, diciamo che il Movimento 5 Stelle è sempre stato un po' il bacino, in cui chi non era contento, almeno inizialmente, della politica, andava appunto in questo partito, militava e cercava di fare la rivoluzione, un po' come dicevano loro durante i Waffa Day, se così vogliamo appunto andare indietro e indietro nel tempo. Detto questo, il fatto di aver fondato insieme per il futuro il partito appunto di Luigi Di Maio, secondo me è stata la condanna a morte politica di Luigi Di Maio in questa situazione e in questo frangente. Comunque è stato un politico, a parer mio, non valido dal punto di vista delle conoscenze, delle competenze, però ha scelto comunque di staccarsi per una questione di coerenza, almeno così sembrerebbe aver detto. Dall'altra parte ha lasciato comunque il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte, che a parer mio in questo periodo sta facendo la vera opposizione, che io non condivido, però comunque sta facendo una vera opposizione, anche sostituendosi al Partito Democratico, perché in un periodo di transizione del Partito Democratico, dove Enrico Letta se ne sta andando, forse subentrerà Elislein, forse Stefano Bonaccini, questo ancora non lo possiamo sapere. Forse ci sarà anche una scissione dopo queste primarie. Vai, prego. Esatto, assolutamente. Quindi in un periodo così critico e instabile del Partito Democratico, dall'altra parte abbiamo la proposta del Movimento 5 Stelle, che può essere un'opposizione valida o meno, è comunque un'opposizione sentita. Luigi Di Maio, secondo me, e per quanto mi riguarda, andrà a scomparire un po' dalla scena politica progressivamente. Marco, secondo te, io direi che in realtà è già scomparso Di Maio. Sì, sicuramente si è autoescluso, autorottamato, per usare un termine in realtà... Non tanto, non gli piacerebbe forse questo termine. No, infatti non gli piacerebbe, però di fatto si è fatto un autogol, potremmo dire forse in termini sportivi. Ora c'è questo nuovo incarico, forse al quale può ambire Di Maio come diplomatico nel Golfo Persico, però come sappiamo la decisione non è ancora stata presa, poi c'è stato di mezzo anche il Qatargate, il quale chiaramente Di Maio non è coinvolto, però sappiamo che ha riguardato alcuni esponenti italiani, e quindi questo potrebbe influire per il buon Luigi, chiaramente in termini negativi. E però sicuramente Di Maio, insomma, con quella mossa, come diceva Valentina giustamente poco fa, ha fatto degli errori di calcolo, soprattutto anche rispetto a un Movimento 5 Stelle, che dobbiamo essere sinceri, non è scomparso come molti preconizzavano, forse grazie anche al populismo di Giuseppe Conte, che cavalcando alcuni temi chiave dei 5 Stelle, come appunto il reddito di cittadinanza, è riuscito comunque a ottenere un risultato significativo alle recenti elezioni. E questo ha dato forza effettivamente a Giuseppe Conte, che in una prima fase era un po' l'alter ego di Di Maio tra i 5 Stelle. Quindi si era creato un po' anche questo dualismo, che poi ha creato una scessione. Assolutamente. Arriviamo a luglio, metà luglio, Giuseppe Conte annuncia che il Movimento 5 Stelle non parteciperà al voto sul DL Aiuti. C'è poi la decisione di Mario Draghi di presentare, di rassegnare le dimissioni, ma il rinvio in aula di Sergio Mattarella. E poi, quello che ricorderete tutti, lo strappo di parte del centrodestra di Forza Italia e della Lega, che facevano parte del governo di unità nazionale. Vediamo il video. Noi avevamo già anticipato, e come l'avevamo anticipato, così è stato, i nostri senatori al Senato non hanno partecipato al voto sul Decreto Aiuti, motivando questa posizione con ragioni di metodo e in parte anche di merito. La presenza di una norma su un termo valorizzatore, che renderebbe in prospettiva la capitale e la pattumiera, inceneritrice nel centro Italia. Il mancato inserimento di una norma sul super bonus, assolutamente necessaria, perché migliaia di imprese sono sull'orlo del fallimento. E ancora, l'inserimento di una norma sul reddito di cittadinanza è del tutto scollegata all'attuale sistema del centri per l'impiego. Ecco, niente di niente. Tutte le nostre richieste sono state respinte. La nostra posizione è stata chiara. Lo stesso l'ho anticipata per tempo al Premier Draghi, spiegando che la nostra non è la contrarietà alla fiducia, ma linearità e coerenza rispetto a un atteggiamento incomprensibile di totale chiusura, che, permettetemi di dire, ha sentato fin anche la umiliazione politica. Buongiorno. Prima di tutto, grazie. 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 Grazie per questo, naturalmente. Certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato qualche volta. Ma grazie per questo e grazie per tutto il lavoro fatto insieme in questo periodo. Alla luce del voto espresso ieri sera dal Senato della Repubblica, chiedo di sospendere la seduta perché mi sto recando dal Presidente della Repubblica per comunicare le mie determinazioni. Allora, chiedo ai miei ospiti, ai nostri telespettatori, un minuto di pazienza, andiamo un attimo in pubblicità e poi commentiamo la crisi del luglio 2022. Ed eccoci tornati in studio, stiamo ripercorrendo i fatti salienti della politica italiana del 2022. Eravamo arrivati prima della pubblicità a luglio, quando è caduto, insomma, il governo Draghi. Valentina, che emozione se ci sono state le emozioni nel rivedere quelle immagini, che riflessioni Draghi che dice che visibilmente provato dal suo ultimo giorno in Parlamento dice anche io un cuore, anche i banchieri centrali hanno un cuore. Sicuramente una forte emozione. Mario Draghi non è un politico ma un tecnico e ha scelto comunque di proseguire dopo aver appunto dato le sue dimissioni al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per concludere, diciamo, tutte le questioni che il governo doveva ancora concludere e l'ha fatto a parer mio in maniera molto corretta e molto propositiva, visto che comunque il Paese si trovava e si trova attualmente in una situazione estremamente complicata sulla questione gas, bollette, come abbiamo visto tantissime volte anche in questa trasmissione. Dal punto di vista emotivo io ho sempre apprezzato tantissimo Mario Draghi sia per le linee economiche prese e anche appunto per il curriculum che ha un uomo veramente con una professionalità molto molto ammirevole e comunque è stato in grado diciamo di avere a che fare con i politici italiani che oggi ormai è qualcosa di, se mi permetti questa nota, un po' simpatica è qualcosa di estremamente difficile. Abbiamo visto appunto le varie peripezie e le varie situazioni. Ha avuto davvero tanto coraggio ad avventurarsi in questo governo ed è stato secondo me un ottimo Presidente del Consiglio. Condividi Mario il giudizio di Valentina e poi si è parlato tanto dopo la caduta del governo Draghi di quale potesse essere il suo futuro, la Nato, il Consiglio europeo, qualcuno lo vedeva invece al Fondo monetario internazionale. Poi se non sbaglio proprio di recente hai rilasciato un'intervista dove ha detto fatemi fare il nonno? Sì, sicuramente Mario Draghi è stato un Presidente del Consiglio di altissimo profilo come non se ne vedevano da anni. Del resto sappiamo benissimo la situazione dalla quale l'Italia proveniva, cioè un trascinarsi di governi che non erano esattamente espressione della volontà popolare. Se vogliamo fare una critica a Mario Draghi, se proprio vogliamo cercare il perone nuovo, forse il fatto che Draghi soprattutto nell'ultimo periodo abbia un po' giocato sulla difensiva e si sia lasciato un po' travolgere dal corso degli eventi. Abbiamo visto anche noi la decisione di 5 Stelle di strappare, che è stata poi, al di là della ricostruzione che invece oggi danno i pentastellati, quella è stata poi effettivamente l'inizio di un percorso che ha portato a uno sfilacciamento conclusosi poi con la fine di governo. Sì, oggi i 5 Stelle addossano in realtà le responsabilità al centro-destra e alla Lega, ma lo avete mostrato bene nel vostro filmato, l'inizio di quelle frizioni iniziano proprio con la decisione dei 5 Stelle di fare un passo indietro e di creare comunque una situazione di turbulenze. Per quanto riguarda il futuro di Mario Draghi, le carte in regola per ricoprire alti incarichi Mario Draghi le ha sicuramente, però forse, lo abbiamo visto anche nell'ultimo periodo, il desiderio di allontanarsi un po', almeno per il momento, dal vortice delle responsabilità istituzionali potrebbe aver riguardato anche l'ex Premier. Sta attendendo le nuove elezioni del Presidente della Repubblica, secondo voi Valentina, prima te, poi Marco? Perché lo ricordavamo prima, era uno dei, all'epoca del Quirinari, è stato uno dei papabili, però c'era chi diceva non possiamo andare avanti con un Presidente del Consiglio diverso, molti sostenevano che Draghi era pronto per la cosiddetta opzione trasloco, poi siamo ritornati appunto con Sergio Mattarella, adesso magari sta aspettando, chiamiamola così, la rivincita? Beh, può darsi, anche se credo che lui abbia già avuto la rivincita, vedendo appunto l'evolversi, diciamo, delle varie situazioni politiche attuali. Credo che sia stato molto contento di aver passato la campanella, l'abbiamo visto in quell'immagine a Giorgia Meloni, comunque sembrava appunto che stimasse anche la nuova Premier, potrebbe darsi appunto, come dicevamo prima, che possa effettivamente aspettare di diventare lui il prossimo Presidente della Repubblica. Ma secondo me, credo che non sia una delle sue più grandi aspirazioni, almeno da quello che si può percepire. Poi è un uomo che comunica veramente, veramente poco e rilascia pochissime interviste, quindi non abbiamo tantissime fonti per interpretare. Secondo te, Marco, invece? Beh, è possibile, però Mario Draghi, a mio avviso, non è sicuramente un esponente, diciamo, delle istituzioni che fa passerelle per candidarsi a qualche ruolo. Evidentemente è una figura di altissimo profilo e quindi attorno al suo nome potrebbe consolidarsi un certo consenso. Però, come sappiamo, le elezioni del Presidente della Repubblica, ne parlavamo proprio poco fa, si consumano proprio nei giorni stessi dell'elezione. Non si possono fare previsioni a lungo termine. Quindi vedremo anche come arriveremo alle prossime elezioni del Presidente della Repubblica, quali saranno le circostanze che ci condurranno a quell'evento e solo a quel punto potremo capire come si metteranno le cose. Di certo, se ci guardiamo attorno, come diceva, credo, Andreotti, non si vedono altri giganti che possano competere con Mario Draghi. Però, ecco, è presto per fare questo tipo di previsione. Sì, è decisamente presto. Mancano appunto sei anni, se, sempre se, Mattarella, ma probabilmente sarà così perché, l'ha detto chiaramente, porterà a termine un altro settennato. Arriviamo adesso forse alla parte più divertente dal punto di vista politico di questo 2022. La campagna elettorale più insolita della storia, perché è condotta in piena estate, da un ombrellone all'altro. E vediamo dei passaggi, delle dichiarazioni dei leader che sono scesi in campo. E più sviluppo, sapete bene cosa dovete fare. Chi dipende da qualcuno a cui deve qualcosa, quando arriva nel palazzo, tendenzialmente tradisce i cittadini con i quali si è impegnato. Sento tanta voglia di cambiamento. Di là ci saranno almeno tre o quattro sinistre diverse, perché ogni giorno sembra l'asta del fantacalcio. Sempre in ricoletta, ho visto che in questa intervista odierna parla ancora di agenda Draghi. Sono fiero di essere il segretario nazionale di un partito, il partito democratico italiano. Siamo assolutamente convinti di questa alleanza e questa intesa nel segno di quella che i più hanno chiamato agenda Draghi. Ho provato a portare il partito democratico su un'agenda seria, concreta, quella per intenderci che chiamiamo Draghi, ma che poi è un'agenda di buon senso per l'Italia. Emma ci spiega sempre che sui diritti se non si va avanti si va indietro. Noi vogliamo andare avanti. La lista alleanza, verde e sinistra, è l'unica lista che affronta seriamente la crisi climatica. Valentina, inizio da te. Che campagna elettorale è stata questa in pieno agosto? È stata una campagna elettorale caldissima in entrambi i sensi. Abbiamo da un punto di vista politico tantissime situazioni difficili da affrontare. Abbiamo visto per esempio il terzo polo che si è messo in campo con Carlo Calenda e Matteo Renzi. Abbiamo visto un Carlo Calenda che prima voleva andare con Enrico Letta, poi è tornato sui suoi passi con azione. Abbiamo visto un Matteo Salvini e un Silvio Berlusconi combattere per riuscire ad avere il ruolo, la carica che poi è stata intestata a Giorgia Meloni che è diventata Presidente del Consiglio. Abbiamo visto un Partito Democratico, lo ripeterò fino allo sfinimento, estremamente debole in questo frangente. Un Enrico Letta quasi svogliato dalla politica. Però nel video che abbiamo visto si era detto fiero di essere il segretario di quel partito, poi probabilmente a distanza di 30 giorni il suo giudizio sarà completamente cambiato. Ricordiamo la tigre di Enrico Letta che poi si è spenta e è diventata un gattino. Aggiungo anche questa nota simpatica al mio commento. È stata una campagna elettorale molto impegnativa e ha avuto tantissimi retroscena sicuramente. Marco, quale di questi retroscena secondo te è stato il più interessante e che ti va di ricordare ai nostri telespettatori? Sicuramente c'è stata, diciamo, che poi in realtà non è stato un retroscena perché poi si è consumato tutto abbastanza dalla luce dei riflettori. È stato l'iniziale abboccamento tra il PD e Calenda. C'era stato anche quel famoso bacio, quel famoso abbraccio tra i due leader politici. Poi Calenda con una piruetta ha fatto un balzo indietro e si è, diciamo, alleato con Matteo Renzi. Del resto allearsi in quei giorni con il PD era insomma un atto di vero coraggio. Anche perché che nemmeno Calenda si è sentito di voler compiere. Ma siamo spiritosi quando parliamo del PD comunque, tutti e tre. Sì, ma perché diciamo che il PD ispira anche certe ironie. È vero, assolutamente. Sì, sì, anche questo. No, abbiamo parlato prima del fatto che abbiamo puntato a lungo sul presunto ritorno del fascismo e evidentemente gli elettori non hanno creduto a questo tipo di narrazione. No, l'hanno anche provata a riprendere in questi giorni questa narrazione. Dobbiamo andare di corsa e abbiamo ancora due tappe da analizzare. La prima, di quelle che ci mancano, e forse la più effettivamente più importante di questo 2022, è la nascita del nuovo governo, del governo Meloni, la prima donna presidente in Italia. L'anno 2022, il giorno 22 del mese di ottobre in Roma, nel Palazzo del Quirinale, nelle mani del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 93 della Costituzione, prestano il giuramento. L'onorevole Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare il mio mandato e le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Valentina, inizio da te, anche perché a breve ti dovrò salutare, dovrò salutare anche Marco, e allora ti chiedo sia un commento su quelle parole, anche quel giuramento che ha pronunciato Giorgia Meloni, senza leggere, visibilmente emozionata, e un bilancio dei suoi primi, sono tre mesi di governo. Circa tre, sì. Allora, abbiamo visto una Giorgia Meloni estremamente emozionata, in cui appunto recitava il giuramento. È stato l'obiettivo evidentemente della sua vita, che ha raggiunto e, secondo me, attualmente sta governando e portando avanti anche varie dinamiche in maniera corretta e propositiva. Tante richieste appunto che sono state fatte in campagna elettorale, tante promesse che sono state fatte in campagna elettorale, già le stanno appunto attuando e le sta attuando lei stessa. Diciamo che non è facile per Giorgia Meloni sicuramente governare con due partner di governo, non se così possiamo chiamarli, quindi Lega e Forza Italia. Abbiamo visto le varie peripezie per l'assegnazione dei ministeri. Abbiamo visto tantissime appunto situazioni e questioni che avrebbero potuto mettere in difficoltà, ma lei ha comunque scelto di proseguire. Vedremo un po' che cosa succederà. Poi la luna di miele è sempre nei primi mesi di governo, dove tutto è positivo, tutto è bello, e tutto viene comunque visto sotto un buon occhio. Però vedremo appunto gli sviluppi. Possiamo solo giudicare questi primi tre mesi e dare un parere. Unica nota negativa, se posso permettermi, che a me proprio non è piaciuta la questione POS e tutta questa campagna contro il POS, nonostante l'Unione Europea e anche il mondo in generale stia andando in una direzione completamente diversa rispetto a quella presa appunto dal governo Meloni. Eh sì, e infatti sul POS c'è stata poi la retromarcia. Marco, invece a te sia un commento sul record effettivamente della prima donna Presidente del Consiglio e un commento su, anzi un bilancio di questi primi 90 giorni. Sì, l'elezione del primo Presidente del Consiglio è stato sicuramente un fatto storico, molto interessante per il nostro Paese e diciamo per una volta davvero un passo in avanti. Si parla spesso dei diritti delle donne, si parla spesso di emancipazione, usando questi temi anche come bandiere ideologiche. Ebbene, Giorgia Meloni ha dimostrato che si può essere donne e ricoprire ruoli di comando, se così possiamo dire, con abilità e con competenza anche senza agitare il proprio ruolo femminile come se fosse, diciamo, una questione politica o di ideologia. E questo è un primo punto importante. Per quanto riguarda il bilancio rispetto a questo primo periodo di governo, a mio avviso è positivo. Il governo sicuramente ha dovuto fare i conti anche con una situazione internazionale piuttosto complessa, però ricordiamo che secondo le opposizioni Giorgia Meloni e i suoi alleati dovevano arrivare al governo e creare sfaceli. Probabilmente credevano che non sapessero mangiare nemmeno con le posate. Invece Giorgia Meloni e i ministri hanno dimostrato di saper reggere il ruolo. Poi l'attualità è complessa, quindi staremo davvero a vedere. Io ringrazio davvero i miei ospiti che oggi mi hanno accompagnato in questo percorso che abbiamo fatto di ogni tappa del 2022, ogni tappa che ha segnato quest'anno dal punto di vista politico. Grazie Valentina Menassi della Voce del Popolo, Marco Leardi del Giornale. Grazie davvero ragazzi, vi auguro un buon anno e ci risentiremo sicuramente l'anno prossimo. Non temete. Grazie a voi. A voi a tutti. Grazie. Grazie a voi. E riallacciandoci noi alle parole che ha detto Marco gli impegni internazionali, cioè le aspettative che c'erano a livello internazionale su questo nuovo governo. C'era chi temeva che un governo di destra ci potesse allontanare dall'Europa. Ecco, almeno possiamo dire in questi primi giorni che così non è stato. E allora vediamo una parte del primo Consiglio europeo a cui ha partecipato Giorgia Meloni in qualità di Presidente del Consiglio d'Italia. Aspetto che si faccia un passo avanti. credo che la questione energetica sia questione estremamente rilevante perché questo è complessivamente un Consiglio europeo nel quale noi siamo chiamati a confermare il nostro sostegno sulla vicenda della guerra di aggressione contro l'Ucraina ma questo significa anche essere in grado di dare risposte efficaci al domino di conseguenze che il conflitto comporta. E adesso in questi ultimi minuti dell'ultima puntata dell'anno di BREAK analizziamo, ripercorriamo anche attraverso i sondaggi questo 2022. Lo facciamo con Livio Gigliuto Vice Presidente dell'Istituto Piepoli. Buongiorno, bentrovato. Buongiorno e tanti auguri. Buongiorno a voi. Grazie, è vero. Tanti auguri per Natale e poi ci faremo anche gli auguri di buon anno che sia, ci auguriamo appunto un anno diverso, felice e sereno. Però, vediamo innanzitutto come è stato visto come è stato percepito dai cittadini quest'anno dal punto di vista politico e dal punto di vista dei leader. Nella prima parte abbiamo ampiamente parlato perché abbiamo ripercorso le tappe del 2022 Vice Presidente Gigliuto di Mario Draghi del suo ruolo della sua figura di quello che si ipotizzava potesse essere il suo futuro al momento a Draghi piace fare il nonno e l'Istituto Piepoli ha anche chiesto ha fatto un sondaggio sulla fiducia che i cittadini che gli italiani ponevano nell'ex numero uno della BCE. Cosa ci dice questa grafica? Dottor Gigliuto? Ci dice che è strano il caso di Mario Draghi perché Mario Draghi è un personaggio il cui livello di fiducia è stato sostanzialmente identico poi entreremo dentro meglio a questo concetto di identico perché poi non è esattamente così ma nella diciamo in un'analisi generale possiamo vedere che è rimasto identico da prima che diventasse Presidente del Consiglio a quando è stato Presidente del Consiglio fino ad adesso che come diceva giustamente lei non ha più incarichi istituzionali un nonno particolare diciamo per i propri nipoti ma sicuramente in questo momento non ha incarichi istituzionali e vediamo prima che diventasse Presidente del Consiglio avevo l'iole di fiducia quindi arriviamo più o meno a un anno fa aveva un livello di fiducia intorno al 60% quindi molto molto elevato ma ci sta perché non aveva incarichi poi è diventato Presidente del Consiglio e questo ha generato una piccola crescita certo partiva già molto alto ma è passato dal 60-61 al 65 fino a un piccolo del 66% da quel momento ovviamente crisi di governo sappiamo l'impatto enorme che ha avuto sulla vita degli italiani eppure l'impatto sul suo livello di fiducia è stato marginalissimo è passato dal 65% quando è caduto quindi vicino al picco del suo livello di fiducia all'attuale 60% insomma Mario Draghi ha iniziato l'anno esattamente come l'ha concluso almeno dal punto di vista dell'opinione pubblica è costante è stato coerente secondo lei perché questa fiducia nel Premier nell'ex Premier da parte degli italiani che è stata sempre costante e se non sbaglio è stata anche una delle più alte Conte ai tempi della pandemia del momento più duro della pandemia se non sbaglio si attestava poco sotto il 60% no superava il 60% lei ovviamente perfettamente informata è proprio così superava di poco il 60% poi in realtà sappiamo questi dati li dobbiamo cogliere come trend come tendenze senza affezionarci troppo allo specifico numero stava lì dai insomma il 60% quella era la cifra ma viveva anche una condizione di grande grande difficoltà del paese in quel momento è normale come quando c'è una turbolenza in aereo tutti in quel momento ci fidiamo di chi guida l'aereo perché un po' ci fidiamo ma soprattutto ci affidiamo a lui speriamo che lui conduca l'aereo in porto diciamo così o meglio però il picco raggiunto durante la crisi il picco di fiducia il massimo dimostra che gli italiani magari volevano ancora farsi guidare da Mario Draghi o è soltanto diciamo un riflesso fisiologico quando una persona in difficoltà diciamo anche per una questione empatica aumenta la nostra considerazione non credo eh no è proprio come diceva lei prima in realtà questo è un governo che non è caduto lo sappiamo per ragioni di consenso non è che l'opinione pubblica abbia in qualche modo manifestato dissenso verso Mario Draghi sono state altre ragioni ragioni politiche che hanno portato alla fine di quell'esperienza ma gli italiani hanno mantenuto sempre lo stesso livello di gradimento nei suoi confronti e possiamo fare un parallelismo con Mario Monti che condivide con lui il nome di battesimo ma anche un po' la storia profilo tecnico un tecnico di alto livello un grande personaggio italiano che diventa capo del governo qual è la differenza perché Mario Draghi ha concluso la sua avventura di governo con un alto livello di fiducia mentre Mario Monti diciamo poi pian piano è andato a scendere perché Mario Monti è passato all'altro lato del cielo diciamo è diventato un protagonista politico ha fondato un partito lo ricordiamo tutti scelta civica mentre Mario Draghi ha fatto l'opposto ha fatto esattamente il civil servant diciamo tecnico finita la sua esperienza tecnica torna a fare altre cose non ha continuato non si è fatto diciamo attrarre dalla politica è vero è vero anche se c'è chi per mesi per lui ha dipinto un futuro con qualche ruolo istituzionale ne parlavamo prima chissà se forse tra sei anni lo vedremo sul colle più alto vediamo invece la situazione dei leader partiamo da quelli di maggioranza in riferimento all'attuale maggioranza ecco quindi Giorgia Meloni Matteo Salvini e Silvio Berlusconi quanto è interessante capire che cosa è successo nel nostro paese magari anche un po' annoiandovi con i numeri però cerchiamo magari dovremmo tornare molto indietro per avere un'analisi ancora più curiosa però la nostra parte da gennaio 2022 e comunque ci riserva delle interessanti sorprese io ne vedo soprattutto due la prima è la grandissima crescita che ha registrato Giorgia Meloni dal giorno della caduta del governo Draghi insomma è evidente che per gli italiani da quel giorno è iniziato il governo Meloni poi sono stati due mesi di campagna elettorale che però come si dice nel calcio quando si tira un tiro facile da parare qui era molto facile da prevedere un tiro telefonato qui era una campagna elettorale telefonata era abbastanza prevedibile che diventasse premier Giorgia Meloni crescita straordinaria forse la sorpresa è anche nei dati successivi quelli dopo il 25 settembre perché lì registriamo una lieve flessione del consenso nei confronti di Giorgia Meloni poi mai secondo lei per quelle vicissitudini che ci sono state nella formazione del governo anche i litigi diciamo così a distanza con Berlusconi forse un po' ma soprattutto perché Giorgia Meloni quando è diventata presidente del consiglio è stata vissuta positivamente un po' da tutti anche dagli elettori di centro-sinistra che magari hanno visto una donna per la prima volta al potere una cosa che ovviamente ha fatto a tutti piacere poi però Giorgia Meloni per caratteristiche personali polarizza divide prende decisioni che non a tutti piacciono è un politico con una chiara definizione politica e quindi che cosa è successo conseguenza ha perso qualche punto di consenso ma tutto a sinistra quindi è rimasta sostanzialmente molto apprezzata dai suoi elettori molto meno da chi non l'ha votata altra piccola sorpresa è Matteo Salvini perché anche lui è cresciuto dal giorno del voto questo è effetto governo quando una persona assume un incarico di governo di solito guadagna un po' però a me colpisce anche il fatto che dalla caduta di governo Draghi fino alle elezioni politiche si è passato dal 20 al 34 questo forse a dimostrazione che la crisi cioè la caduta il fatto che poi la Lega si sia sfilata dalla maggioranza di unità nazionale perché si diceva per poter provare a riacquisire un tot di consensi effettivamente l'obiettivo è stato raggiunto forse non è stato così strabiliante come avrebbe voluto Matteo Salvini e anche Silvio Berlusconi però il loro risultato lo hanno portato a casa sì assolutamente sì ma era chiaro che su Matteo Salvini la persona Matteo Salvini ci fosse bisogno di dare una sterzata perché aveva grande difficoltà nel trovare una linea da comunicare ai suoi elettori e infatti l'abbiamo visto la Lega non ha perso consensi solo nell'ultimo anno l'ha perso nell'ultimo triennio sostanzialmente perché aveva una difficile definizione di sé maggioranza governo insomma era molto difficile capire cosa votasse un elettore della Lega votava per Draghi contro Draghi era molto difficile da capire e quindi questa decisione ha avuto delle conseguenze positive su Matteo Salvini perché ha guadagnato consenso un po' meno sulla Lega perché magari come vedremo il consenso del suo partito insomma non è andato a crescere dal giorno delle elezioni però prima di passare all'analisi dei partiti dei singoli partiti vediamo invece la situazione il trend che ha interessato la fiducia nei leader di opposizione e quindi Conte Letta Calenda e Matteo Renzi quale ecco già a occhio vicepresidente possiamo vedere che il percorso meno lineare e quindi anche quello che riserva un po' più argomenti di discussione è quello di Giuseppe Conte beh forse è difficile per chi non pratica la politica cercare di capire il percorso che ha fatto Giuseppe Conte nel corso di quest'anno perché ha assunto posizioni radicalmente diverse tra di loro ha iniziato l'anno come un sostenitore di un governo che forse ha anche un po' subito lo sappiamo il governo Draghi e invece poi ha attraversato posizioni molto diverse però vedendo i dati lo capiamo bene perché questo è successo Giuseppe Conte come il suo partito aveva attraversato un periodo di calo di consensi straordinario da gennaio al giorno del voto in particolare ad agosto che poi è il momento della caduta luglio-agosto è il momento della caduta del governo Draghi doveva perso personalmente 13 punti percentuali insomma era crollato e continuava a scendere qualcosa doveva fare aveva avuto un brutto segnale dalle amministrative da lì ha preso una decisione che naturalmente non possiamo giudicare in termini di merito ma in termini di consenso sì e effettivamente ha generato risultati positivi da quel momento Giuseppe Conte ha guadagnato personalmente 8 punti percentuali e adesso è il leader d'opposizione preferito dagli italiani conclusione andiamo sul trend delle intenzioni di voto che riguarda i partiti e qui è chiara qual è la voce che diciamo attira di più l'attenzione sia come ricordava prima il vicepresidente Gigliuto la Lega che segna un meno 10 ma anche il partito democratico meno 4 ci sono stati due travasi evidenti nel corso di quest'anno il primo travaso è a destra Fratelli Italia ha sostanzialmente prosciugato tutto il consenso residuo della Lega rispetto al periodo in cui la Lega aveva l'8% sicuramente ricorderà la Lega era un partito dell'8-10% poi la manovra anche un po' diciamo difficile anche diciamo provante però importante di trasformarla in un partito nazionale aveva portato a consensi del 20 poi del 30% tutto riassorbito da Fratelli Italia che quest'anno ha preso 10 punti solo quest'anno alla Lega ma la stessa cosa è successa a sinistra da quando vediamo fino a luglio il trend era positivo nel partito democratico certo non tantissimo ma aveva guadagnato un altro punto percentuale tra gennaio e luglio insomma dava benino quando si è rotta l'alleanza con i 5 stelle giusto? esattamente così il tema è stato a sinistra la fine di quell'alleanza tutta la segreteria lettera fondata su magari non prendiamo voti ma costruiamo un'alleanza importante quella è saltata da quel momento un po' di elettorato se n'è andato dal PD e se n'è andato al Movimento 5 Stelle e questo flusso sta ancora continuando bisogna fare presto per loro un congresso perché sappiamo il congresso di solito dà un po' di enfasi un po' ricarica agli elettori in questo momento sono molto molto diciamo lontani dal loro partito e però mi sembra che al momento questo congresso il percorso costituente stia allontanando ancora di più gli elettori invece di avvicinarli che è quello che è l'obiettivo del Partito Democratico che vuole assolutamente rinascere e non morire sotto il peso degli errori fatti soprattutto in quest'anno Vice Presidente io la ringrazio davvero per essere stato qui con noi perché come dico sempre il trend il sentiment dei cittadini è molto importante per analizzare le vicende politiche che ci troviamo ad osservare grazie a Livio Gigliuto Vice Presidente dell'Istituto Piepoli le auguro un buon anno e ci vediamo l'anno prossimo grazie a lei grazie a voi ancora buon anno grazie e grazie anche a voi per averci seguito oggi in questa ultima puntata dell'anno di BREC grazie a Valentina Piccolo in regia da parte mia buon anno e buona giornata grazie a tutti